Benvenuti a questo incontro, insieme a me Walter Veltroni, Matteo Marani, per parlare del valore della memoria, per parlare di due importanti lavori che sono stati fatti da Walter, l'intervista a Samimodiano, un film che non so se vi è capitato di vedere, ma struggente, commovente, che ripercorre tutta la vicenda, a partire dalle leggi razziali alla sua permanenza insieme alla famiglia, soltanto lui poi è sopravvissuto all'interno del campo di concentramento e vedremo anche alcuni brani di questo importante lavoro che, come vedrete, ha una funzione molto importante, poi lo approfondiremo, non voglio adesso anticipare troppo, ma una funzione proprio a livello di ricordo per le nuove generazioni, perché il valore della memoria, e qui introduco anche Matteo Marani, il valore della memoria anche per quelle vicende che sono state trattate meno. Matteo ha preparato un bellissimo lavoro, un documentario che è andato in onda nei mesi scorsi su Sky, come anche il lavoro di Walter Veltroni e che è dedicato a un aspetto delle leggi razziali che poco si racconta, e cioè che effetto, che impatto terribile e devastante hanno avuto nel mondo dello sport italiano. Raccontando anche molto, ma non voglio anticipare anche in questo caso, una parte che riguarda le responsabilità, che sono poco conosciute. E ci arriveremo perché grazie all'esame anche di alcuni documenti esclusivi. Ma io vorrei iniziare subito insieme a voi mostrandovi il primo brano che volevamo farvi sentire del film di Walter Veltroni. Vediamolo insieme. Io mi sono sempre chiesto perché io. Grazie. 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 Molto, molto, molto positivo dalla parte dei ragazzi. E io mi sono giurato che finquando Dio mi darà la forza di farlo, non mi fermerò. Tutto davanti a questi occhi. Walter Veltroni, che cosa ha significato per te realizzare questa intervista che ricordiamo apparteneva in realtà a un altro film precedente che era dedicato alla ricerca della felicità e avere il coraggio di essere felici dopo tutto quello che hanno visto quegli occhi io credo che sia una testimonianza più bella che si possa portare. Sì infatti quando io telefonai a Sami per dirgli che stavo facendo un documentario sulla felicità e che volevo intervistarlo lui mi disse come la felicità aspetta un attimo io poi ci pensò un attimo mi disse sì sì va bene facciamola e poi abbiamo fatto un'intervista di cui ho messo una parte in indizi di felicità nella parte finale però l'intervista è durata un'ora e mezzo e devo dire che è stata un'esperienza emotiva per tutti molto molto importante io conosco Sami da molti anni Sami è tornato ad Auschwitz insieme a me la prima volta l'ho visto svenire quando è entrato nei luoghi dove da ragazzo aveva visto volar via la sua famiglia e tutto il resto però con me c'erano i due operatori il fonico e alla fine era una specie di piscina quella stanza perché piangevamo tutti piangeva lui piangevamo noi il racconto di Sami ha una grandissima forza emotiva e in un festival del giornalismo può essere interessante cercare di capire la ragione di questa forza emotiva che è naturalmente nella storia per chi non avesse visto il film per chi non conoscesse la storia di Sami Modiano Sami era un bambino di 13 14 anni viveva a rodi in grecia con suo padre e con sua sorella sua madre era morta da un po e fu preso dai nazisti come tutta la comunità ebraica di rodi fece un mese di viaggio in una nave che era una nave dove fino a poco tempo prima c'era stato c'erano stati degli animali e poi fatto un mese di viaggio in treno è arrivato a Birkenau a Birkenau è stato separato da suo padre anzi stava con suo padre e da sua sorella che per lui era molto importante si chiamava Lucia poi sua sorella è morta suo padre si è lasciato morire dopo la morte della sorella e lui è rimasto da solo a 14 anni nel campo di sterminio e quando stavano per arrivare i liberatori fu fece la marcia della morte quella con cui tutti i prigionieri uscirono dal campo lui fu giudicato a un certo punto perché cade per terra fu giudicato morto fu riportato ad Auschwitz buttato su un mucchio di cadaveri e si risvegliò perché una dottoressa dell'esercito russo sovietico che era entrato capì che lui non era non era morto questa è la sua storia poi la sua storia è un'odissea incredibile incredibile perché la vita di ciascuno è più ricca di 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 emozioni di quanto sia immaginabile da qualsiasi sceneggiatore vi dico solo questo lui poi cresce si sposa con una donna che si chiama selma vanno a vivere in in congo in africa mettono su un'impresa cominciano a stare bene una mattina suonano la sua porta un signore nero con un decreto ingiuntivo in mano che gli dice che lui deve andar via dal congo perché è bianco e quindi lui ha subito per la seconda volta la discriminazione per la seconda volta ha dovuto ricominciare la sua vita quindi è una storia incredibile c'è la storia dell'incontro con la sorella che è probabilmente esatto probabilmente lo vedremo dopo però cos'è che rende talmente forte la testimonianza di sami intanto il suo volto guardate ha un volto meraviglioso sembra insomma il film sono 45 minuti di primo piano neanche robert de niro regge 45 minuti di primo piano 45 minuti di primo piano in cui ci sono solo le sue parole il suo modo di raccontare e la sua emozione che arriva che traspare che mostra tutta la sua autenticità e poi c'è questo finale perché quello che abbiamo visto è la ragione per la quale lui ha accettato di stare in un film sulla felicità perché lui adesso è felice lui non è tornato nel campo fino al 2005 2006 da allora la sua agenda è come quella di un manager tutti i giorni lui va in una scuola raccontare la sua storia e questo ha riempito di senso la sua vita perché ciascuna vita ha bisogno di senso e il suo senso sta nel raccontare nel trasmettere ai ragazzi in fondo la parola ricordare significa riportare al cuore ecco quello che fa sami che ha fatto l'intervista ma che fa tutti i giorni nelle scuole è riportare al cuore di ciascuno di noi la consapevolezza di quello che è successo non è un lavoro inutile perché come anche Matteo credo dirà parlando del suo lavoro sullo sport guardate che la storia si ripete l'idea che gli altri siano un pericolo un nemico da eliminare l'idea che gli altri siano da sopprimere è un'idea che è tornata molte volte nella storia e che può tornare c'è un solo antidoto, un solo antibiotico nei confronti di questo virus è della memoria può tornare ma possiamo anche dire che non è mai scomparsa del tutto in molte parti del mondo e avremo anche modo di parlarne io però per farti ancora una domanda su quello che stavi dicendo sulla testimonianza di sami tu hai citato i suoi occhi a me ha colpito e trovo molto importante anche la scelta che avete fatto nel titolo perché è un qualcosa che lui ripete spesso nell'intervista cioè lui sembra incredibile nel modo in cui lo racconta che quello che sta raccontando è avvenuto tutto davanti a questi occhi e lui trova un senso a quello che ha visto perché ha la possibilità di raccontarlo di raccontarlo ai ragazzi e quindi di mantenere viva la memoria che cosa ti ha detto della reazione che hanno i ragazzi che lui incontra perché poi questo è molto importante ma guarda io l'ho vista perché sami è venuto in uno dei viaggi che facevamo col comune di Roma e da allora tutti gli anni è andato più volte e facevamo questi viaggi con i ragazzi della scuola piangevano tutti piangevano tutti passavamo delle nottate in albergo dopo la visita nel campo facevamo questa assemblea con i ragazzi e non finiva più e lui non voleva andare a letto nonostante sia era lui, Piero Terracina un altro sopravvissuto si chiama Aslomo Venezia che adesso non c'è più e che lui ha visto veramente l'abisso dell'orrore perché lui stava nel Sonderkommando il Sonderkommando erano quei detenuti che erano costretti a occuparsi dei corpi degli ebrei che erano passati per le camere a gas una cosa io una volta in Pullman andando ad Auschwitz gli chiesi a Schlomo chiesi tu quando è che hai smesso di avere gli incubi e lui mi risposi io non ho mai smesso e sai, Sami dice tutto davanti a questi occhi perché dobbiamo pensare a noi tredicenni alla nostra vita di tredicenni noi a tredici anni abbiamo visto delle cose che ci ricordiamo in larga parte con piacere lui ha visto Auschwitz lui ha visto sua sorella morire ha visto suo padre morire ha visto i mucchi dei cadaveri e quando dice tutto davanti a questi occhi è come un bambino che lo dice ha la stessa stupore la stessa meraviglia che può avere un bambino di fronte a ciò che di più opposto c'è alla condizione infantile che è l'orrore no, noi lo vediamo in questi giorni quello che per esempio Sky ha trasmesso dei bambini di Guta che raccontavano che cosa erano i bombardamenti insomma ti danno la misura di come come parta da lì diciamo la ingiustizia, la diseguaglianza e la differenza nella vita delle persone e Samy lo racconta appunto questo secondo me è fatto bene a sottolinearlo Samy lo racconta come lo racconterebbe un bambino è come se lui fosse restato tredicenne o quattordicenne ed è come se quando lui racconta ai ragazzi trovasse degli amici ai quali dire guarda che ci sono famiglie di sopravvissuti marito e moglie che erano stati insieme nei campi di sterminio che in famiglia non parlavano dei campi di sterminio tra di loro non ne parlavano perché io non so chi di voi è andato a Birkenau ad Auschwitz in visita con le scuole o per conto proprio è un'esperienza umana che va fatta si conta più quello di mille parole chi c'è stato chi ha passato lì gli inverni a un certo punto Samy racconta come era vestito lui con i piedi con gli zoccoli con addosso a nulla con la fame gli davano qualche grammo di pane al giorno questo è stato non è che sono film è stata la vita delle persone prodotta da altre persone e appunto bisogna stare attenti perché può ricapitare e anche non perdere la capacità di farsi coinvolgere di fronte a un racconto di questo genere perché tu citavi prima noi stiamo cercando di fare un lavoro di sensibilizzazione su quello che sta succedendo in Siria a prescindere dalle parti in causa non è un discorso che vuole avvalorare la tesi di una parte piuttosto che di un'altra ma semplicemente il mostrare che un orrore che può essere anche paragonato a questo di orrore è ancora tuttora in corso eppure nonostante si mostrino i bambini dopo gli attacchi perpetrati col gas oppure l'immagine del bambino lo ricorderete quello sull'ambulanza sporco con ancora addosso le macerie sporco di sangue però sembra che manchi oggi una capacità di indignarsi fino in fondo ma guarda la prima cosa che ti dicono i sopravvissuti e diciamo colui che ha maggiormente razionalizzato cioè Elie Wiesel che ha maggiormente razionalizzato che ha scritto dei romanzi dei saggi è noi siamo finiti lì per l'indifferenza l'indifferenza Gramsci scrisse un saggio contro l'indifferenza l'indifferenza che è quella dalla quale siamo attanagliati oggi come mai nella storia dell'umanità perché la mia generazione quando ci fu il colpo di stato in Cile pianse e produsse volantini comizi assemblee concerti eccetera adesso succedono in giro per il mondo delle cose spaventose e al massimo si fa un tweet non è la stessa cosa un tempo si scendeva in piazza tu citavi un'altra epoca importante a me di quell'epoca viene viene alla memoria perché l'abbiamo anche rimostrata adesso la foto della bambina vietnamita nuda con le ferite del gas napalo quella fotografia indignò il mondo tantissimi migliaia migliaia di giovani scesero in piazza e contribuì a cambiare le sorti di quel conflitto oggi invece come hai detto tu non si scende in piazza si fa un tweet e si pensa che così ci si è anche un po' lavati la coscienza e pensa che scusa che ti interrompo Muhammad Ali Muhammad Ali che rifiutò di andare a sparare contro i vietnamiti dicendo non c'è nessuna ragione per la quale io debba considerare un vietnamita mio nemico poi da adulto diciamo andò in vietnam e fu accolto da centinaia di migliaia di persone perché quelle persone avevano capito che lui non le aveva lasciate soli il dramma dei bambini dei quali possiamo parlare di tante circostanze è che sentono questa condizione di solitudine avvertono l'indifferenza del mondo questo è l'indifferenza contro la quale bisogna combattere questo vuole essere anche un po' il nostro filo conduttore di questo incontro Matteo il racconto di Walter Vettroni è un racconto molto emotivo abbiamo cercato di sottolineare nelle parti è molto coinvolgente il racconto che hai fatto tu è altrettanto efficace ma è più basato sulla cronaca c'è un taglio forse più da giornalista da cronista di quello che accadde metti in fila in modo spietato una serie di storie delle quali molti di voi ma anch'io non avevo neppure sentito parlare eppure è una pagina altrettanto vergognosa io farei vedere l'inizio che parte proprio dall'introduzione delle leggi razziali dal famoso discorso di Benito Mussolini e poi ne parliamo insieme il 18 settembre 1938 fu una domenica di pallone per gli italiani quel giorno prendeva il via il campionato di Serie A ma il fatto più rilevante quello destinato a entrare nei libri di storia andò in scena lontano dai campi di gioco ed ebbe come scenario Trieste Benito Mussolini gran capo del fascismo sbarcò sul molo della città vestito con la divisa militare quella che indossava dalla conquista d'Etiopia di due anni prima e sfilò lungo le vie del centro cibandosi del solito bagno di folla poi scelse Piazza dell'Unità per scandire il discorso sulla razza il problema di scottante attualità è quello razziale anche in questo campo noi adotteremo noi adotteremo le soluzioni necessarie l'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni malgrado la nostra politica un nemico irreconciliabile del partito fu un colpo duro per tutti con quelle parole minacciose sfrontate l'Italia entrava ufficialmente nella stagione delle leggi raziali fu un risveglio brusco e insopportabile per migliaia di ebrei presenti nel paese per molti si spense lì ogni passione politica si chiuse la dimensione civile e pubblica della loro vita di colpo sparì in tutti la sicurezza data dalle abitudini quotidiane e mutò all'istante la vita degli sportivi ebrei visto che le leggi investirono società di serie A e circoli sportivi atleti di ogni disciplina i campi da tennis come i ring del pugilato una bufera esistenziale poco nota pochissimo raccontata ma che accadeva esattamente 80 anni fa nello sport del nostro paese Matteo 80 anni fa anche questo si consumò nell'indifferenza generale sì buonasera a tutti soprattutto diciamo si inserì in un paese apparentemente normale cioè la cosa che a me ha colpito moltissimo la vicenda delle leggi razziali è come entrarono nello sport e in quella che appunto era un'apparente normalità riuscirono a entrare e a produrre tutti i loro effetti cioè nel 1938 l'Italia da un certo punto di vista è un paese sì ovviamente sotto una dittatura sta avvolgendo sta diventando una coloritura sempre più nera c'è stata la campagna d'Africa però è un paese che festeggia il campionato del mondo secondo consecutivo vinto nel luglio a Parigi che va molto fiera delle sue glorie sportive Bartoli ha vinto il tour si va nei cinema con i tele con i film dei telefoni bianchi cioè c'è una apparente normalità su questo cala questo discorso qui che arriva il 18 settembre come diciamo nel documentario un giorno in cui tra l'altro inizia il campionato di calcio quindi la cosa più usuale più comune per gli italiani coincide esattamente con questo discorso che Mussolini pronuncia a Trieste tanto Trieste è una città che sulla questione ovviamente razziale avrà purtroppo un ruolo di primo piano ovviamente in fondo alle serie San Sabba ma ancora prima i primi circoli sportivi più duri furono proprio quelli di Trieste nel perseguitare gli ebrei escludere dai propri circoli e quindi in questo contesto arrivano le leggi le leggi razziali in realtà è chiaro che la parte proprio di campagna d'Africa è quella che muta lo spirito del sentimento del paese cioè fino al 36 voi pensate che ancora in intervista Ludwig Mussolini di 6 anni prima al 32 lui dice non c'è un problema razziale in Italia anzi in parte elogia gli ebrei italiani perché non c'è mai stato in effetti un sentimento razzista radicato nel paese poi arriva la campagna d'Africa per la prima volta c'è l'incontro con etnie diverse quindi da questo incontro subentra tutto un tema tutto un dibattito sulla contaminazione del sangue sul fatto che in Africa molti soldati italiani si accompagnino a donne africane di cui tra l'altro racconto ovviamente Montanelli e tanti testimoni di questa vicenda per cui addirittura se vogliamo la prima legge razziale in Italia è quella sul madamato che riguarda proprio questo aspetto qui già del 37 prima delle leggi che poi andranno a perseguitare gli ebrei e quindi lì muta lo spirito cioè lì si dice che l'Italia è fieramente razzista come va raccontando Mussolini quel giorno questo si riflette immediatamente nello sport si riflette immediatamente nello sport perché i provvedimenti vanno a colpire da un lato ovviamente le federazioni cioè tutte le federazioni si mettono in linea per mettere fuori dai loro quadri gli atleti ebrei dall'altra siccome pochi giorni prima di questo discorso il 5 di settembre sono state varate due leggi le prime due leggi razziali che riguardano le scuole e riguardano gli ebrei stranieri ovviamente nella parte che riguarda gli ebrei stranieri riguarda direttamente lo sport perché sulle panchine di serie A ci sono in quel momento tre allenatori ebrei uno sta in serie B e tre stanno in serie A Ieno Conrad che è allenatore della Triestina e guarda un po' torniamo ancora a Trieste c'è Arpad Weiss che è allenatore del Bologna e c'è Agri Herbstein il quale è già al Torino tutti e tre devono lasciare insieme a V-Lime che è allenatore del Padova in serie B tutti e quattro devono lasciare il paese entro sei mesi perché il provvedimento costringe gli ebrei stranieri a lasciare l'Italia entro sei mesi quindi entra in maniera concreta sostanziale in quel momento Weiss è stato l'allenatore che ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni e si avvia a vincere quel campionato lo vincerà il Bologna alla fine di quella stagione nel 38-39 e quindi tutto avviene in una ripeto apparente normalità tant'è che Weiss viene allontanato con due righe sui giornali per le noti leggi razziali l'allenatore Arpad Weiss è sollevato all'incarico punto e quindi è stranissimo come se ci fosse una sorta di strabismo da una parte c'è un paese che pensa di essere normale e si pensa normale e dall'altro invece l'attuazione è immediata è fortissima arrivando a colpire ovviamente i circoli sportivi a colpire le federazioni dopo magari vedremo il documento addirittura alla massima espressione cioè il CONI perché in quel momento lo sport è sotto il controllo forte serratissimo del regime questo è chiaro cioè lo sport è stato il grande amplificatore dei successi voi pensate al ruolo che ha avuto straordinario voi pensate al ruolo che viene dato in quel momento al giovane Giuseppe Meazza detto il Balilla che piace alle donne e piace a Mussolini perché diventa l'emblema voi pensate che quella nazionale che è quella di Pozzo quella che vince nel 34 nel 38 il mondiale e nel 36 l'Olimpiade all'interno ha un giocatore che si chiama Eraldo Monzeglio che è l'istruttore di tennis di casa Mussolini tant'è che a un certo punto lascia il Bologna e va a giocare nella Roma non per motivi sportivi ma ci va perché è l'insegnante di tennis a Villa Torlogna i rimandi sono enormi sempre in quel 38 nell'estate del 38 l'Italia gioca la partita contro la Francia seconda partita del mondiale in maglia nera è una scelta voluta direttamente a Mussolini che la impone attraverso Vaccaro i giocatori perché nella prima gara contro la Finlandia che noi vinciamo per 2 a 1 i fischi degli esuli italiani degli antifascisti che erano andati in Francia che avevano riparato in Francia erano intollerabili insopportabili per cui la risposta è quella che viene data Mussolini vestiamo la maglia nera e quindi in maglia nera affrontiamo la Francia i legami sono enormi pensate a quello che è il ruolo di Primo Carnera cioè il grande e forte uomo pugile italiano che diventa anche lui un emblema del fascismo finché non cada al tappeto contro Max Baer che è un pugile ebreo e il minkulpop dice non mettiamolo sui giornali quindi viene tolto dai giornali questa notizia qui ovviamente le geste di Bartali sono importantissimi è importantissimo quello di Nearco il cavallo che vince l'arco di Trionfo a Parigi stiamo raccontando una storia di 80 anni fa che va riportata alla luce anche perché è forse la parte meno raccontata di quegli anni però oggi noi vogliamo ricordare tutto questo perché si vuole scongiurare assolutamente il pericolo che possa ritornare allora Walter Vettroni io ti voglio chiedere ma l'antisemitismo oggi in Europa quanto è ancora pericoloso perché se guardiamo anche ai numeri ai dati da una parte abbiamo l'antisemitismo fammi dire quello più classico dell'Europa dell'Est legata al nazionalismo al fascismo ma abbiamo anche un altro tipo di antisemitismo che nasce dalla versione per Israele e che molto spesso fa di tutto terbo un fascio anche se non c'entrano nulla gli ebrei francesi con Israele però abbiamo visto moltiplicarsi gli episodi di antisemitismo in Francia e sicuramente vengono alla mente gli attentati terribili di Parigi all'Iperkashar ma non soltanto però quelli anche tanti altri episodi anche la cronaca recentissima ce ne ha portati alcune alla luce sono aumentati esponenzialmente il numero degli ebrei che lasciano la Francia e migrano Israele mentre invece tradizionalmente i paesi principali erano la Russia l'Ucraina o comunque l'Europa dell'Est oggi la Francia è il terzo paese da cui si emigra verso Israele per gli ebrei significa che c'è un'attenzione maggiore che deve essere messa anche oggi nel presente ma guarda le immagini del documentario di Matteo diciamo al di là dell'aspetto che a noi appare grottesco persino dell'elochio di Mussolini però bisogna sempre quando si vedono quei cinegiornali bisogna sempre pensare all'altra immagine alla folla quella folla quando Mussolini ha detto quella frase sugli ebrei è esplosa in un applauso lo stesso applauso che accoglierà l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno del 1940 quella piazza piazza Venezia centinaia di migliaia di persone e in tutta Italia con i microfoni impazziscono di gioia l'idea che si vada in guerra parto da qui per rispondere alla tua domanda perché può essere utile mettere a fronte la solitudine di Sami e quella massa siamo in un festival del giornalismo cosa è successo nel cuore di quelle persone come può accadere che improvvisamente un essere umano ti appaia un pezzo perché stuc si dice in tedesco gli ebrei erano stuc erano pezzi com'è che quell'essere umano che è fatto come te improvvisamente ti sembra una cosa da cancellare guardate che per effetto di quelle regi razziali sono successe delle cose incredibili in un paese con la nostra tradizione la nostra cultura siamo figli di qualcosa di importante un giorno le maestre sono entrate nelle scuole e hanno detto come per l'allenatore del Bologna fuori tutti quelli che sono ebrei bambini compagni di banco di bambini non ebrei sono rimasti a casa dal giorno dopo è successo qualcosa qualcuno si è ribellato risulta negli annali che ci sia stato un preside un professore se non pochissime eccezioni che abbia detto di no perché questo è successo perché quelle persone applaudivano perché ci sono gli episodi di antisemitismo c'era stato uno terribile a Parigi qualche giorno fa una donna che era scampata una sopravvissuta dell'olocausto è stata uccisa da due vicini di casa e la procura ha detto che era un caso di antisemitismo perché succede questo parliamone al festival del giornalismo succede questo perché per anni dopo quel 32 tra il 32 e il 38 fu persino varata una rivista che si chiamava la difesa della razza nella quale si alimentava l'idea che gli ebrei erano somaticamente socialmente da tutti i punti di vista diversi dagli altri e si esaltava la purezza della razza ariana se voi ci pensate qualcosa del genere succede oggi su altri piani pensate all'isis alla concezione che ha della superiorità della propria religione tale da negare il diritto di esistere a chi ha altre convinzioni religiose da qui lo sgozzare chi non la pensa come loro che sia ebreo che sia cristiano eccetera qualcosa che è successo a ruoli capovolti magari in altri momenti della storia ma questa malattia che affiora sempre per questo in questo momento è pericoloso affiora sempre quando ci sono stagioni di crisi economica sociale di grande mutamento come quello che stiamo vivendo e di cui abbiamo ogni giorno testimonianze evidenti che bisognerebbe solo cercare di razionalizzare fanno sì che a un certo punto le urla siano più importanti delle parole le invettive siano più importanti dei ragionamenti io mi hanno sempre dato fastidio quelli che ottengono l'applauso urlando perché quell'urlo travolge la razionalità e si può urlare qualsiasi cosa e ottenere il consenso ci sono dei talk show televisivi dove la gente applaude una cosa e il contrario purché sia detto urlando purché sia detto urlando va bene e le urla sono propedeutiche all'odio si urla contro qualcuno non si urla per qualcosa si urla contro qualcuno e dall'urlo all'odio ieri raccontavo prima a Sara e a Matteo ho presentato a Firenze il libro scritto da un giovane storico sugli agenti che furono uccisi a Viafani cinque ragazzi del sud ammazzati nel modo che abbiamo visto e che ricordiamo da che cosa nasce quello dal fatto che alcuni tipi si sono messi in testa che loro erano i depositari della verità e che quel ragazzo figlio di proletari meridionali era l'incarnazione dello stato internazionale delle multinazionali e in nome di questo doveva essere ucciso guardate che è successo in Italia quarant'anni fa Sarajevo c'è stato qualche decina di anni fa le fosse comuni in Europa ci sono state questa belva che oggi manifesta in Francia ma non solo in Francia voi pensate quello che succede in certi paesi dell'est europeo quello che sta succedendo in Ungheria il ritorno alla normalità del fatto che si sostenga e poi lo si applica diciamo nella forma dell'antisemitismo ma poi quella negazione dell'altro ha varie declinazioni perché poi diventa la negazione dell'altro perché ha un colore della pelle diverso perché ha un comportamento sessuale diverso perché ha un'opinione politica diversa perché ha un'opinione culturale diversa o religiosa guardate bisogna stare con le antenne alzate perché la storia tende a ripetersi mai nella stessa forma ma tende a ripetersi e ci sono dei momenti della storia in cui ci sono dei gradi di pericolo molto superiori ad altri e questo è uno di quelli per questo che bisogna esercitare insieme la memoria e una tetragona capacità di inclusione dell'altro di rispetto dell'altro di accettazione dell'altro da sé viviamo in un tempo in cui ci guardiamo allo specchio e pensiamo che il mondo sia la proiezione di noi stessi e tutto ciò che non siamo noi ci appare un fastidio così si finisce malamente anche perché siamo in un'epoca dove gli strumenti nuovi di comunicazione facilitano anche questo il dibattito di questi giorni sui social network o su facebook le famose ecocembers dove un algoritmo sceglie che notizie farmi arrivare e mi arrivano messaggi soltanto di persone o notizie che riguardano già quello che è il mio stato d'animo quelle che sono già le mie idee quindi non mi confronto neppure con idee differenti dalle mie e quello che dicevi tu di saper riconoscere i segnali della storia ecco credo che sia uno snodo fondamentale perché sia nel racconto di tutto davanti a questi occhi che nel racconto di Matteo appare chiaro come prima di togliere la vita si sono spogliate le persone di tante altre cose e a questo proposito perché mi ha evocato alla memoria proprio un passaggio dell'intervista di Sami che abbiamo tu hai ricordato come la sorella non sia sopravvissuta al campo di concentramento ma lo stupore l'angoscia di Sami nel raccontare che la sorella prima di perdere la vita era stata spogliata da tutto il resto da quello che era la gioia di vivere da quello che erano cose anche piccole banali ma che per una ragazza di 16 anni se non sbaglio aveva la sorella quando venne portata nel campo di concentramento erano fondamentali la ricordavano come una ragazza bellissima ecco quando lui la rincontra una sera stenta a riconoscerla sentiamo il desiderio che mi veniva che mi spingeva era quello di vedere mia sorella mio papà lo vedevo ma mia sorella no e sapevo che era nel lager B ci separava soltanto il filo spinato ad alta attenzione e allora questo desiderio mi spingeva non mi lasciava tranquillo e quasi un mese dopo che eravamo arrivati quando papà mi disse vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro gli dissi no papà sai molto bene che dall'altra parte c'è tua figlia c'è mia sorella Lucia sta nel lager B e allora e beh da quando siamo venuti l'abbiamo persa di vista non l'abbiamo più almeno vederla e non gli ho aggiunto queste parole per l'ultima volta ho detto almeno vederla Valtopo lui la va a vedere e quasi non la riconosce all'inizio sì non la riconosce tenete conto che la sorella era stata per lui come una madre perché è morta la madre la sorella diciamo si occupava di lui e lui la amava enormemente finalmente una sera la vede dall'altra parte del campo dove stavano le donne vede una persona che lo saluta e lui non la riconosce poi si avvicina tanto quanto poteva e capisce che è sua sorella e allora dice al padre l'ho trovata ma il padre non ci vuole andare perché non la vuole vedere come era diventata lui invece va e racconta a Sammy che una sera lui ha deciso di fare un regalo a Lucia alla sorella e ha preso che regalo poteva fare ad Auschwitz ha preso la fetta di pane che era il loro cibo quotidiano l'ha chiusa dentro un tovagliolo un fazzoletto e gli era gettata dall'altra parte del filo spinato Lucia ha preso questo questo pacchetto lo ha aperto ha sorriso a Sammy poi l'ha richiuso e gli era rimandato e quando Sammy l'ha aperto c'era la sua fetta di pane e la fetta di pane di Lucia poi lui è tornato e non c'era più Lucia lo ha detto al padre e il padre in quel momento ha deciso di lasciarsi andare e ha detto che sarebbe andato all'ambulatorio l'ambulatorio è un posto di Auschwitz dove si sapeva che si entrava vivi e si usciva morti e Sammy gli dice ma scusa come vai all'ambulatorio si sapeva anche i ragazzi sapevano che cos'era l'ambulatorio lui dice non ti preoccupare a me mi cureranno e poi gli mette la mano sulla testa e gli dice una frase che Sammy ripete molte volte all'intervista dice tieni duro Sammy tu ce la devi fare e Sammy questa frase se l'è portata presso tutta la vita e quando io gli ho fatto una domanda sull'Africa su quando fu cacciato lui mi ha risposto dicendo mi sono detto tieni duro Sammy tu ce la devi fare e a quel punto Sammy quando lascia il padre quella sera che gli dice vai poi ci rivedremo e lui sa benissimo che non lo rivedrà rimane completamente solo e sarà solo l'amicizia con un altro deportato che poi è tornato e che era un ragazzo come lui che si chiama Piero Terracina a tenerlo in vita io certe volte quando parlo con loro provo a immaginarmi questi due ragazzi là dentro faccio fatica perché è inimmaginabile però penso a penso a noi tredicenni o quattordicenni che cosa deve essere stata la sensazione di freddo di solitudine di disperazione di paura di morte di di e però e però Sammy Modiano come voi avete visto è la persona più dolce che io abbia mai conosciuto in vita mia conosco tanta gente che ha tanti privilegi io ho tante ricchezze ho tante fortune e che ce l'ha con la vita e ha Sammy avrebbe molti motivi per essere diciamo di cattivo umore con la vita e invece è la persona più dolce più accogliente più inclusiva che io abbia mai conosciuto in vita mia perché il dolore genera sensibilità genera attenzione agli altri genera braccia aperte non braccia chiuse o un pugno che si mostra all'altro io da lui ho imparato molto nel senso che è una persona che nella mia vita è stata molto importante in questi anni della mia vita proprio perché la prima volta che l'ho visto lì dentro mi sono chiesto ma come fa come fa quest'uomo ad avere questa dolcezza pensiamo la nostra vita pensiamo a quante volte perdiamo le staffe per delle cretinate o andiamo in crisi in depressione perché quell'altro è andato due volte di più di noi in televisione o non so dove tutto è relativo però bisogna avere dei punti di riferimento e per me Samimodiano è un punto di riferimento grazie è un qualcosa che ci dobbiamo ricordare tutti i giorni che non ci dobbiamo dimenticare mai e torniamo adesso invece alle responsabilità di quanto avviene perché come abbiamo detto e l'abbiamo anche attualizzato il nostro ragionamento anche oggi bisogna saper cogliere i segnali saper individuare i responsabili quelli che portano l'odio quelli che gridano più forte lo slogan più cattivo per ottenere il consenso e cercare invece di tenere sempre un faro acceso invece su quello che accade noi per esempio a Sky lo facciamo quotidianamente nel telegiornale parliamo sempre ogni giorno incessantemente di quello che sta avvenendo in Siria cerchiamo di combattere la nostra di battaglia contro l'indifferenza torneremo settimana prossima ancora una volta in Francia l'abbiamo già fatto tante volte per raccontare queste nuove forme di antisemitismo perché quando si comincia a ignorare quello che sta succedendo a quel punto tutto viene legittimato e così anche i responsabili in qualche maniera si sentono degli impuniti che possono anche non pagare neppure dopo come dimostra questo documento che per la prima volta viene mostrato nel documentario di Matteo vediamolo insieme grazie a un documento mai visionato finora esclusivo e riscoperto dallo storico Marcello Pezzetti noi possiamo aggiungere un capitolo fondamentale nella storia delle leggi razziali nello sport italiano da registro contenente le relazioni del CONI mancano tre pagine certamente strappate da chi aveva interesse a guerra finita a escludere il proprio coinvolgimento accadde così con centinaia migliaia di atti pubblici distrutti o bruciati eppure qualcosa resta qualcosa di fortemente imbarazzante per il mondo dello sport un documento che va esaminato completamento della epurazione razziale nei quadri del CONI in ottemperanza alle direttive che la politica del regime ha stabilito in ogni attività della nazione per la salvaguardia della purezza della razza il CONI ha provveduto alla esclusione di ogni elemento ebraico dai suoi quadri tale epurazione razziale è oggi completa rapporti con l'istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza il CONI attraverso la federazione medici degli sportivi ha offerto la sua collaborazione all'istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza di recente costituzione le modalità di tale collaborazione non sono state per ora precisate ma si impernieranno nel reciproco scambio sono termini spaventosi orribili che segnano una ferita difficile da rimarginare tra lo sport e il mondo ebraico trattato da impostore come andava succedendo nell'Italia di quegli anni negli uffici o nelle università lo sport che dovrebbe sempre essere veicolo di integrazione di unione divenne la base per creare il razzismo in un paese che non aveva un fondamento scientifico e nemmeno una base popolare pronta a sorreggerlo Di questa parte colpisce molto questa frase Matteo non aveva neppure una base popolare pronta a sorreggerlo ma che neppure si è opposta in alcun modo No non si è opposta in alcun modo perché sposo il concetto di Walter cioè l'indifferenza è il nemico più insidioso più subdolo che esista perché tu magari ti giri dall'altra parte come se è girata l'Italia in quel 38 quando gli allenatori ebrei prendevano e andavano via venivano mandati via o quando nei circoli sportivi gli iscritti da un giorno all'altro non vi potevano più entrare o quando i ragazzini a scuola dovevano lasciare la scuola e andarsene quando gli insegnanti ebrei dovevano andarsene in mezzo a colleghi che non reagivano appena 12 su 1200 i docenti italiani firmarono contro le leggi razziali cioè abbiamo visto veramente di tutto e di tutto in questo in questo paese io ribadisco il concetto da cui l'ho partito prima cioè a me la cosa che più colpisce forse perché vivo di sport da tantissimi anni da una vita so che questa passione la condivido con Walter cioè noi abbiamo sempre avuto la percezione che il mondo dello sport fosse rimasto fuori da certi aspetti deteriori della nostra storia e invece c'è stato dentro pienamente totalmente questo mi colpisce tantissimo della vicenda delle leggi razziali dello sport italiano perché non è un mondo a parte non è un mondo separato non è stato un mondo che è rimasto lontano da certe infamie che questo paese ha commesso c'è stato dentro totalmente questo documento che abbiamo fatto vedere di cui vado ovviamente molto grato a Marcello Pezzetti che è uno storico consentitemi di dire una cosa visto che siamo a festa del giornalismo io credo che ci sia una grande opportunità per noi che facciamo questo mestiere per noi giornalisti che è anche quello di ripescare i documenti della storia cioè ci sono tantissimi documenti non non esaminati non visti non non analizzati in particolare nel mio mondo cioè nel mondo dello sport spesso c'è stata superficialità quindi non si è andati alla ricerca delle fonti in questo caso è stato uno storico importante che ovviamente si occupa di Shoah come Marcello Pezzetti a trovare questo atto che a suo modo è straordinario però anche questo serve per raccontare serve per fare informazioni quindi non si fa informazioni solo sul presente come voi Sara fate perfettamente su Siria e su altri temi ma è anche nella storia che ci stanno informazioni che vanno assolutamente ripescate e dicevo anche perché non ci dimentichiamo che un giornalista è uno storico del presente nulla di differente anzi assolutamente assolutamente è uno storico del presente e io guarda aggiungo io vengo da studi storici nel senso che ho fatto storia contemporanea e l'ho sempre lamentato questo l'ho sempre annunciato cioè io ho fatto 22 esami di università più tesi e non ho fatto una pagina di storia dello sport una non l'ho fatta in mezzo a decine centinaia di migliaia di pagine e questo secondo me ti sei preso la tua rivalsa poi nella tua carriera ma spero spero che di prenderne anche altre nel senso per rimuovere questa cosa e volevo concludere dicevo questo atto qui che è un atto fortissimo si conclude in pochi mesi voi considerate che le disposizioni delle leggi razziali diciamo il più importante è quello del novembre del 1938 è quello che porta la firma del poco nobile Vittorio Emanuele III le leggi razziali sono del novembre questo documento qui è di febbraio cioè l'epurazione dai quadri del coni quindi la cacciata di tutti gli ebrei avviene in meno di due mesi è incredibile e quell'altro accordo lo traduco è l'accordo con la Demorazza cioè una delle cose più orrende scene che abbiamo avuto cioè la Demorazza il coni ci si è messo insieme il coni devo dire che in questo va a merito mi ha fatto un grande piacere dopo l'uscita dello speciale le parole che ha avuto Giovanni Malagozzo che si è scusato ovviamente a nome del coni pur avendo lui nessun tipo di responsabilità su quello che accade nel 1938 mi hanno fatto molto piacere perché credo che il nostro mondo un po' di conti con quella pagina ce le debba fare e abbia iniziato a farli e su questo possiamo tirare le fila del nostro incontro però abbiamo ancora qualche minuto mi farebbe piacere anche sentire voi che ci avete pazientemente ascoltato in questi ultimi 60 minuti se avete qualche domanda da rivolgerci ecco c'è quel ragazzo non so se abbiamo dei microfoni in sala se no sta arrivando il microfono forse per riempire questi silenzi che sono sempre io mi permetto solo di dire che però Matteo Marani ha compiuto una piccola discriminazione perché vi siete accorti che ha dato per scontato che io non posso essere appassionata sportiva ha detto passione che mi accomuna con l'amico Walter visto che era una donna però in questi giorni non ne parla in questi giorni non ne parla tanto in questi giorni no io essendo di fede opposta a quella di Walter ma qui mi fermo perché il microfono intanto arriverà oppure se parli a voce alta ci sentiamo teatro salve volevo se possibile un'opinione da parte di tutti e tre sul concetto attuale magari in relazione dei fatti di cronaca della differenza tra le parole antisemitismo e antisionismo che secondo me potrebbe essere un punto di approfondimento interessante anche per capire comunque l'evoluzione di un odio verso diciamo un'etnia non una razza perché biologicamente non siamo cioè siamo la razza umana non c'è razza ebraica eccetera e anche in relazione magari ai fatti di Israele degli ultimi giorni che catalizzano comunque delle opinioni prevalentemente negative verso ad esempio lo Stato di Israele o comunque la leadership di Netanyahu grazie però se posso è esattamente in questa cosa finale che tu hai detto la differenza cioè la critica nei confronti dell'atteggiamento di chi in questo momento governa Israele è una cosa assolutamente legittima e condivisibile un'altra cosa è che questo si trasformi in un giudizio su Israele e quindi diventi un pregiudizio Israele io ho avuto la fortuna di conoscere Shimon Peres Shimon Peres è stato un gigantesco architetto della pace ed era israeliano tutto quello che è ismo e anti-ismo comporta una specie di pregiudiziale di tipo ideologico o etnico o religioso o razziale questo però vale anche per per Israele cioè Israele non deve scambiare una critica nei confronti della politica di chi lo governa per un pregiudizio no torniamo a quello che dicevamo prima cioè la distinzione tra la dimensione del giudizio storico o della critica politica o della critica di politica sociale e la trasformazione di questo in un giudizio di carattere ideologico e quindi in un pregiudizio questa è la differenza alla quale tu facevi riferimento io credo che però sia molto importante il punto che lui ha sollevato perché quando parlavamo in precedenza di saper cogliere i segnali per riuscire a prevenire perché tutto quello che abbiamo raccontato quest'oggi non si ripeta mai più è anche importante mettere in fila le cose perché se è vero che non bisogna assolutamente trasformare quella che è la posizione di Netanyahu nell'identità in ciò che definisce l'identità dello Stato di Israele o ancora peggio in ciò che definisce il percepito della comunità ebraica in Europa o in Francia o in qualsiasi altro paese è altrettanto vero che bisogna però sapere riconoscere il fatto che questo in qualche misura stia avvenendo ma non soltanto con Netanyahu cioè ricordiamoci se voi andate a vedere quando c'è stata una prima forte recrudescenza negli ultimi vent'anni di episodi di antisemitismo in Europa coincisero col 2002 con la seconda intifada parte la seconda intifada e automaticamente anche in Europa c'è un risveglio dell'antisemitismo certo che ha caratteristiche molto diverse rispetto a questo antisemitismo quello che caratterizzò gli anni 30 i campi di concentramento la seconda guerra mondiale è un antisemitismo più politico perché nasce da quello che avviene nello Stato di Israele dalle politiche che mette in pratica Israele però è ancora più da un certo punto di vista pericoloso in quanto più strisciante più subito lo più difficile da controllare perché diventa a loro modo il gesto antisemita perpetrato soprattutto di matrice islamista in questo caso l'abbiamo visto anche negli ultimi episodi in quello che citava anche Varte dell'uccisione della donna che era sopravvissuta all'olocausto per poi dover morire in quella maniera per mano di una nuova forma di antisemitismo ecco che io credo che sia molto importante questo punto perché questo è uno dei segnali che vanno evidenziati proprio per evitare che non ci siano mai più quelle degenerazioni di cui abbiamo parlato io ho poco da aggiungere credo che l'antisionismo sia soprattutto chiave politica e che abbia sostanzialmente poco più di un secolo l'antisemitismo ha duemila anni credo che sia un sentimento più radicato molto più strisciante talvolta le due cose si uniscono cioè spesso diventa antisionismo quello che è un preconcetto antisemita in tantissime ovviamente culture noi abbiamo raccontato gli anni 30 l'Italia la Germania ovviamente però non dimentichiamo quello che è stata i pogrom quelli che sono state la persecuzione da parte della cristianità nei confronti dei dei cidi cioè i ghetti non è che gli hanno vuol dire non è una matrice nazista cioè i ghetti esistevano già nella Roma i sovietici certo quindi è molto più diffuso molto più ampio e molto più serpeggiante per cui ogni tanto riaffiora riaffiora in episodi anche isolati noi abbiamo avuto molto a che fare Sara e Walter ai noi con la questione delle curve cioè spesso ci siamo trovati veramente con episodi di antisemitismo che sono diversi in questo senso davanti al suismo cioè secondo me molti di quelli che sono lì neanche sanno quando nasce l'idea di Sion come nasce chi la porta avanti e tutto semplicemente è il pregiudizio la paura il rifugiarsi nell'odio lo slogan facile che poi non è solo degli stadi è che magari spesso dalle periferie arrivano gli stadi ecco e spesso anche la politica non dà degli esempi troppo eclatanti questo mi permetto di dirlo io ma non chiedo un commento ad altri che invece dovrebbe avere una funzione invece di buon esempio di fronte a certe strutture a certe brutture qualcun altro vuole fare una domanda? prego sì io vorrei chiedere fino a che punto si possano chiarire anche le responsabilità di un certo mondo cattolico nei confronti della tolleranza eccessiva verso le leggi razziali il ruolo di scienziati come Nicola Pende l'endocrinologo che teorizzava questa bonifica della razza cioè il mondo cattolico lei ha parlato bene del madamato di quella legge insomma che introduceva insomma si criticava il concubinato per farla breve però poi si arrivò a chiedere loro per la patria cioè il mondo cattolico fece una specie di unione col fascismo attraverso il diritto delle fedi cioè forse nei libri di storia non si spiega con chiarezza insomma però si spiega un po' un po' si spiega però forse non abbastanza io vorrei la vostra opinione grazie la mia opinione è che l'atteggiamento del Papa e della Chiesa in quella circostanza della storia fu del tutto inadeguato fu del tutto inadeguato e come lo fu l'atteggiamento di gran parte anche dell'establishment italiano dall'imprenditoria a tanto altro ma quello della Chiesa fu ancora più censurabile poi ci sono stati episodi nobilissimi nella mia città tanti parroci hanno ricoverato degli ebrei li hanno nascosti ci sono tantissimi preti che hanno credo corrisposto alla loro scelta di fede anche pagando con la loro vita ma la realpolitik del Vaticano in quella circostanza fu per me insopportabile per me intollerabile inaccettabile e fu parte del consenso che ebbe Mussolini e del silenzio del mondo nei confronti del fenomeno italiano perché adesso qui noi stiamo parlando di Mussolini ma Hitler arriva nel 1933 al potere col voto dei tedeschi non dimentichiamocelo mai perché mentre Mussolini fa un colpo di Stato lì ci arriva col voto dei tedeschi poi Mussolini godrà di un consenso molto elevato in Italia non è che è stato un incidente della storia Mussolini è stato l'espressione di qualcosa che a parte coloro i quali avvedutamente avevano capito quello che stava accadendo e si organizzarono per combatterlo ma gran parte del paese ebbe un atteggiamento di adorazione o silente nei confronti di Mussolini ma non è che il Papa ha detto le parole che bisognava dire quando Hitler ha fatto quello che ha fatto e ha cominciato a invadere il resto d'Europa e a precipitare il nostro continente in quella tragedia spaventosa che poi ha coinvolto anche altri continenti perché tanti ragazzi di altre parti del mondo sono venuti a morire per la nostra libertà il silenzio della Chiesa fu intollerabile per me assolutamente intollerabile sì no io volevo aggiungere che sono d'accordissimo non solo ci fu tantissimo silenzio quello di Pio il dodicesimo credo insomma che ormai sia assordante assordante peraltro una cosa che mi raccontava Marcello Pezzetti quando abbiamo fatto questo speciale che quando furono rastrellati più di mille ebrei nel ghetto di Roma 16 ottobre del 1943 fu fatto un test cioè furono prima presi arrestati e tenuti in una caserma sotto le finestre del Vaticano perché aspettavano i tedeschi di vedere se ci fosse stata una reazione da parte del Vaticano e la reazione non ci fu per questo furono poi portati a Tiburtina e da lì condotti ad Auschwitz volevo aggiungere che laddove c'è stato in silenzio è andata bene perché purtroppo il rumore è stato in quel caso ancora più grave ricordo Giovanni Preziosi cioè il più grande razzista di questo paese era un ex prete ricordo il ruolo che ricoprì civiltà cattolica cioè quello che fecero i gesuiti rispetto al tema ebraico andandomi a quel sentimento antisemita che era fortissimo che era radicato poi ci furono dei casi come ricordava altri giustamente straordinari gente che ha salvato conventi cioè molti devono la vita a questo tra l'altro il presidente della Roma sacerdoti di cui raccontiamo fu salvato perché trovò ripare in un convento a Roma però il ruolo fu veramente pessimo uso questo aggettivo qui sì infatti non ho null'altro da aggiungere mi sembra abbastanza chiaro mancò l'istituzione chiesa che doveva avere un ruolo invece fondamentale l'episodio che racconta Matteo è terribile dentro il documentario però ecco ricordiamo anche quei tanti che hanno rischiato la vita e allora fatemi ricordare uno che l'ha anche persa padre Colbe per salvare in un campo di concentramento qualcuno che era un padre di famiglia e stava per essere ucciso perché forse accanto diciamo al brutto esempio che è stato dato dai vertici del Vaticano forse ricordiamo anche chi invece seppe interpretare lo spirito cristiano nella sua maniera più autentica anche in quell'occasione c'era ancora una domanda là da parte di un ragazzo poi temo che dobbiamo salve noi abbiamo due domande la mia era una curiosità prima mi ha colpito la frase del fatto che mancava una base scientifica e popolare tra le persone e voi pensate che nella nostra nuova generazione noi nativi digitali in qualche modo che siamo sempre cresciuti in profondo contatto con il mondo in qualsiasi ambito pensate che questa cosa possa risultare a favore nel futuro quindi di come noi futuri cittadini oppure che in qualche modo c'è anche una sorta come dicevate voi di non curanza o di sì volevo sapere la vostra opinione grazie posso rispondere io rapidamente dipende perché è vero siete la generazione nativi digitali e tutto arriva immediatamente su un telefono su uno smartphone e c'è accesso a tutto qualcosa che la mia generazione ha imparato crescendo perché in realtà quando io ho cominciato a fare questo lavoro ancora usavo l'olivetti non mi vergogno di dirlo e così i computer i primi erano quei grandi computer con quei letteroni verdi fosforescenti e tutto il resto è stato quindi un qualche cosa con la quale anche la mia mente ha dovuto prendere le misure sulla velocità anche dell'arrivo delle informazioni ecco io la domanda quasi la rivolgerei a te e cioè quanto l'essere cresciuti con questa velocità che si è moltiplicata in modo esponenziale ma voi non l'avete vista moltiplicata sei già arrivata quando siete nati si era già moltiplicata questa velocità questa proliferare di fonti di informazioni dove alle volte io ho quasi la sensazione che non sempre sia fondamentale scoprire se quella notizia era vera o meno se parliamo anche delle fake news perché tanto si dimentica tutto totalmente in fretta ecco io il timore che ho molto forte è che la velocità con cui arrivano le informazioni con la facilità con cui si accede a tantissime informazioni e con cui si dimenticano per forza di cose molte delle notizie delle informazioni questo possa in qualche modo sfavorire questo ruolo della memoria di cui tanto abbiamo parlato stasera ecco però è un qualcosa che dovreste anche raccontarci di più voi a noi perché qual è il vostro percepito poi di fronte al fatto di essere rinchiusi in ambienti digitali di avere moltissimi amici diciamo virtuali con i quali si condivide tanto molto di più di quello che una volta si condivideva con gli amici che si avevano accanto e si condivide molto di più col mondo ma quanto tutto questo però alla fine spersonalizza e colpisce meno l'intimo la parte più profonda io posso aggiungere questo che secondo me ci sono due parole chiave per rispondere alla tua domanda queste due parole sono dubbio e profondità dubbio perché quello a cui dobbiamo stare attenti nel tempo in cui viviamo nella velocità della comunicazione è il fatto che essa ci sembri appagante e che rimuove il dubbio e ci spinga ad avere sempre atteggiamenti emotivi noi viviamo bombardati di informazione ad un altissimo tasso di emotività se voi prendete i cinegiornali luce degli anni del fascismo erano fatti esattamente diciamo con l'obiettivo di orientare l'opinione pubblica costruendo un sistema di certezze è un'altra fase della storia noi oggi dobbiamo stare attenti a non accettare passivamente quello che ci viene raccontato e quindi la verifica l'autorevolezza la credibilità per questo la funzione del giornalismo è ancora più importante oggi di quanto sia mai stata nella storia e al tempo stesso l'approccio che ciascuno di noi ha nei confronti dell'informazione deve essere animata in primo luogo da questo che è una meravigliosa condizione umana il dubbio e il secondo la profondità noi veniamo appunto tsunami informativi ed emotivi ci travolgono e alla fine la nostra testa è come una specie di cassetto nel quale si mettono migliaia di foglie e poi alla fine cominciano ad essere espulsi noi andiamo velocissimi ma non andiamo in profondità allora lo sforzo che ciascuno di noi nessuna sì certo i mezzi di informazione ma qui parliamo di situazioni nelle quali per fortuna questo lavoro si fa andare in profondità cioè cercare di capire ciò che la marea quotidiana il movimento delle acque quotidiane non ti dice quello è il modo per essere davvero informati noi adesso sappiamo e sappiamo anche tante cose non vere discerne le cose vere dalle cose non vere quindi formarsi un'opinione reale e non come abbiamo visto fondata su pregiudizi di varia natura avviene solo se noi riusciamo a tenere in armonia queste due parole dubbio e profondità come il nostro approccio nei confronti di una società che ci dà la meravigliosa possibilità di essere a contatto con una quantità di informazioni che mai nessuno ha avuto nella storia dell'umanità però questo invita ciascuno di noi ad essere ancora più consapevole ancora più dubbioso ancora più ricercatore di quanto siamo stati abbiamo un'ultima domanda poi dobbiamo chiudere mi pare venisse sempre eccolo là volevo chiedere una cosa in particolare a Matteo Marani riguardo all'attualità allo sport e dopo anche a Varretto e Veltroni voglio sapere tutti quegli atti di razzismo di cui si parla legati allo sport al calcio quanto possono essere pericolosi e se possono anche svilupparsi in forma di estremismo secondo me sono molto pericolosi sono molto pericolosi se ci riferiamo all'attualità sono credo molto pericolosi perché comunque parliamo di gruppi ampi di persone io continuo a non capire come si possa ogni volta sostenere la tesi che sono tre o quattro imbecilli nelle curve che inneggiano evidentemente hanno una voce fortissima perché in tre o quattro riescono a fare un grande rumore grandi cori quindi ogni volta è questo ogni volta ovviamente le società si dissociano devo dire lo dico con grande schiette abbiamo parlato anche con la comunità ebraica a Roma ho trovato veramente scadente il gesto l'azione fatta dalla Lazio dopo la vicenda lo ricorderete della figurina nella curva con la maglia di Anna Frank giallo-rossa questa corona messa là con lo Tito che due giorni prima diceva andiamo facciamo questa roba la dobbiamo fare tutto quello che era la negazione della riflessione su quanto era accaduto io temo che lo sport il calcio spesso si porti dietro un po' molta superficialità un po' di ignoranza e questo genera incertemente la sintesi per colpire ferire il presunto avversario con la cosa più oltraggiosa quindi nell'immaginario la cosa più oltraggiosa è l'antisemitismo la cosa più oltraggiosa è colpire il colore della pelle le cose più oltraggiose servono come strumento per colpire è una manifestazione di odio è una manifestazione di odio noi contro tutti questo è il concetto che passa ogni volta nelle curve come diceva Walter ho un po' la paura veramente non solo il sospetto ma la paura che questo si stia instillando nella società cioè quello che non è come me dicevi tu prima Walter io nelle migliori casi lo rifiuto in altri casi lo steggio lo combatto ecco io invece credo che una società debba avere la capacità di parlarsi di tenersi per mano di di portare avanti proprio quel concetto di Modiano fatemi dire in conclusione ho trovato straordinario Walter il tuo lavoro e devo dire che quando Samy manda questo messaggio cioè la mia testimonianza ai ragazzi da un senso a tutto è credo il più bel manifesto che si potesse fare io lascio la parola per ultimo a Walter Veltroni mi limito soltanto al discorso che faceva adesso Matteo che condivido pienamente ad aggiungere un aspetto cioè che parliamo di tifo ma possiamo parlare di tanti altri ambiti ecco l'estremismo non va mai sottovalutato da nessuna parte e soprattutto non va mai presa alla leggera cioè anche la provocazione la maglietta la figurina con Anna Frank io ho sentito anche tanti commentatori dire vabbè ma è una ragazzata una scemenza sapesti quello che si vede nelle curve anche di peggio ecco no bisogna dire no ma no a tutto quello che potrebbe sembrare una ragazzata e non lo è io leggevo sulla stampa tedesca mi pare fosse notizia di oggi o di ieri che ha un prestigioso festival musicale in Germania ha vinto un rapper molto quotato in Germania con una canzone ironica Schuhauschwitz ora la stampa tedesca ha reagito c'è stato però intanto è successo ecco sono esempi segnali anche se poi non sfociano in null'altro che però vanno censurati immediatamente sono ancora una volta e su questo mi fermo i famosi segnali di cui siamo responsabili tutti che nessuno di noi può ignorare sì sono sono assolutamente d'accordo vorrei dire questo pensando al discorso pubblico in questo momento nel nostro paese e non solo nel nostro paese perché tu hai citato il caso di quel di quel gruppo musicale c'è un altro caso di un comico francese che riempie le sale con dei proclami antisemiti violentissimi e allora io vorrei dire questo ho sempre in mente una un libro che scrisse uno storico che si chiamava Irvin Allen che scrisse un libro che si chiamava come si diventa nazisti lui andò in un paesino della Germania che aveva un'antica tradizione socialdemocratica e che nel giro di pochi anni diventò ipernazista e cercò di capire perché è un libro di cui consiglio la lettura tra i vari motivi che attengono alla storia alla struttura sociale c'è anche però un motivo di carattere psicologico che al quale noi nel tempo mediatico nel quale siamo siamo particolarmente esposti e cioè l'emotività l'emotività io prima ho citato le urla vedo anche il dibattito politico vedo i talk show vedo i professionisti delle urla che vengono cercati perché fanno ascolto perché più si urla più si litica più si insulta c'è gente che ha costruito delle carriere sull'insulto e più si fa ascolto ecco io penso che bisogna stare attenti perché le urla sono pericolose non bisogna mai sottovalutarle come i fischi negli stadi non bisogna mai scrollare magari dotati delle proprie buone letture o del proprio buon carattere scrollare le spalle di fronte all'evidenza insopportabile di un urlo o di un'aggressione o di un tweet di insulti o di tutto quello che noi vediamo ormai essere diventato normale cioè è normale che se una persona esprime un'opinione non gli si ribatta nel merito dell'opinione ma gli si ribatta con un insulto è diventato normale è diventato prassi non bisogna sottovalutarlo perché poi questo diventa modalità comunicativa e cognitiva la cosa peggiore che si può fare è non capire che alla forza emotiva di un urlo che bisogna saperlo oggi è un urlo che dice A e domani la stessa persona urlerà B avvalendosi di quello che diceva Sara prima della dimensione smemorata di una società bombardata dalle comunicazioni bisogna però contrapporre non solamente la forza del ragionamento ma la grandezza delle emozioni le emozioni sono il contrario delle urla non bisogna aver paura delle emozioni non bisogna aver paura del calore della coscienza e in questo la memoria è un supporto molto importante non bisogna consentire agli altri di essere caldi per essere freddi la razionalità non è priva di emozione anzi la razionalità e l'emozione vanno insieme l'emotività genera o è alimenta o è il brodo di coltura dell'odio ma la razionalità fredda la razionalità contabile non genera mai quella passione della quale c'è bisogno in qualsiasi momento della storia e questo questa è l'epoca uso l'espressione di due sociologi francesi è l'epoca delle passioni tristi e noi non ci possiamo consentire che le passioni tristi creino le condizioni per le quali l'odio e le urla prevalgano e quindi alle passioni tristi dobbiamo contrapporre la grandezza e la forza delle emozioni razionali che sono visione che sono progetto che sono battaglia che sono lotta contro l'indifferenza che sono l'andare controcorrente il non accettare di piegarsi a quello che viene considerato il pensiero unico cosa che sta accadendo nella storia in questo momento se non faremo tutto questo noi contribuiremo al prevalere degli urlatori e degli odiatori ma come dice Brecht in quella famosa poesia nella quale dice sono venuti a prendere gli ebrei e io me ne sono fregato perché non ero ebreo sono venuti a prendere i comunisti eccetera eccetera poi sono venuti a prendere me non c'era nessuno che mi difendeva più se vogliamo evitare che questo accada noi dobbiamo avere la forza di scrollarci dalle spalle la sudditanza all'urlo e di contrapporre all'urlo la grandezza della razionalità e la forza delle emozioni e della passione grazie Walter grazie Matteo grazie a tutti voi che siete rimasti in nostra compagnia grazie grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei